Nelle 22 pagine della relazione con cui la Corte dei Conti ha bocciato il piano di riequilibrio finanziario presentato dal Comune di Locri, un corposo paragrafo è dedicato ai debiti fuori bilancio per cui i magistrati contabili hanno rilevato gravi criticità sintetizzate in sei punti, pagamento parziale di quelli antecedenti all'esercizio 2015, non è quantificabile la parte rimanente per incompleta risposta da parte del Comune. Era ancora il pagamento parziale di quelli relativi agli esercizi 2015-2016, restano ancora da pagare 433.000 euro per il 2015 e 436.000 euro per il 2016. Ancora si nota l'assenza di accordi con i creditori per la maggior parte dei debiti fuori bilancio indicati nel piano di rientro, c'è la presenza inoltre di debiti fuori bilancio inseriti nel piano di riequilibrio ma non ancora riconosciuti, pertanto da finanziare per un importo con più complessivo di 86.000 euro, presenza di ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere successivi alla redazione del piano di riequilibrio e la presenza ancora di debiti derivanti dal contenzioso conclusosi sfavorevolmente per il Comune ancora non quantificati. Per la Corte dei Conti il Comune non ha fornito i chiarimenti chiesti sulle incongruenze rilevate per i debiti riconosciuti nell'esercizio del 2014. I giudici contabili hanno quindi chiesto all'ente di comunicare se gli importi imputati agli esercizi del 2015 e 2016 siano stati liquidati specificando la somma pagata ed eventualmente da pagare per ciascun debito, nonché se è stata convenuta con i creditori la rateizzazione. Il Comune, a nota la Corte dei Conti, ha semplicemente comunicato di aver effettuato i pagamenti in relazione ai debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio del 2015 e nell'esercizio del 2016 in misura inferiore a quanto programmato senza indicare nel dettaglio, come chiesto dalla sezione, i pagamenti effettuati ed effettuare per ciascun debito. Esaminando poi i dati complessivi delle entrate correnti dell'esercizio 2016 comunicati dal Comune in sede istruttoria, le riscossioni totali delle entrate correnti al 30 novembre 2016 ammontano in circa 4 milioni di euro su accertamenti di 7 milioni di euro con una percentuale di riscossione pari al 57,10%. La bassa riscossione delle entrate correnti si ripercuote sui pagamenti delle spese della medesima natura. Difatti, con riferimento alla spesa corrente, in base a dei trasmessi dal Comune di Locri, da un lato si attesta la riduzione degli impegni negli esercizi 2014, 2015 e 2016, pari rispettivamente a 10 milioni di euro, 11 milioni e mezzo di euro e quasi 8 milioni di euro. Dall'altro si rilevano le gravi criticità in merito ai pagamenti effettuati, nonostante l'ente abbia ricevuto le anticipazioni di liquidità previste. Nello specifico, i pagamenti relativi alla spesa corrente non raggiungono nel triennio in esame il 50% dei rispettivi impegni. Ciò si legge nella relazione e conferma la crisi di liquidità dell'ente che non riesce a far fronte ai pagamenti dei debiti, nonostante l'anticipazione di liquidità. Questo rito è tormentato che nasce addirittura prima dell'insediamento della nostra amministrazione. Siamo quasi giunti al termine del mandato e siamo senza una risposta definitiva, perché probabilmente ci sarà l'appello, addirittura c'è la legge, il decreto 1000 pro che forse ci consente di presentare un nuovo piano di equilibrio. Però in ogni caso, insieme a Raffaele, che ha la delega al bilancio, al segretario, responsabile finanziaria, all'amministrazione tutta, faremo delle valutazioni sul perché di questa bocciatura. Se è effettivamente possibile uscire da questa situazione deficitaria dell'ente, ritengo che come amministratori abbiamo la coscienza a posto. Abbiamo la coscienza a posto perché abbiamo fatto di tutto per evitare il dissesto finanziario. Non perché il dissesto non fosse utile, fosse utile alla risoluzione del problema, perché forse potrebbe anche esserlo, ma per un dato politico di non evitare a una città importante come locri il dissesto finanziario. Abbiamo tagliato tutto quello che era possibile tagliare all'interno del bilancio, un bilancio solamente con spese obbligatorie. C'è stato un taglio del personale quasi di un terzo, lo sapete tutti, con polemiche, con a volte anche delle decisioni impopolari, però abbiamo pensato alle necessità, alle esigenze dell'ente e della città. Abbiamo revocato, appena ci siamo insediati, la delibera del commissario prefettizio che aveva messo in mobilità i 42 stabilizzati part-time perché eravamo convinti che fosse una scelta sbagliata e abbiamo intuato la soluzione del prepensionamento che alla fine non ha penalizzato nessuno. Siamo oggi qua e così voi fate parte di questa unica famiglia che si chiama Comune di Locri e tutti insieme dobbiamo capire qual è la problematica e come affrontarla. Poi ci sono colori politici, qua non è un colore politico, ci sono antipatie e simpatie, purtroppo ci dovete mettere da parte i colori politici, antipatie e simpatie. Noi abbiamo un unico obiettivo, evitare il dissesto, rimanere all'interno del predissesto e troveremo le soluzioni migliori per farlo. Quando poi ci viene intimato, se poi alla fine non ce la facciamo e ci viene intimato, anche su quello andremo a dichiararlo e anche su quello avremo la possibilità di intraprendere anche nuove soluzioni sulla dichiarazione del dissesto. Quindi alla fine al 2018 faremo di tutto per poter salvaguardare quest'ente e questa città dal dissesto.